Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un libro per bambini e ragazzi a partire da 12 anni di età. Una prospettiva originale e suggestiva sulla figura di Edgar Allan Poe, uno degli scrittori più influenti della letteratura gotica. Un capolavoro di macabra ironia, dove tutto può accadere, e l'oscura signora sussurra nella notte, Fammi paura. La trama del libro Fammi paura. Edgar Allan Poe dello scrittore Marco Nucci e illustrato da Lia Visirin, pubblicato dalla casa editrice Giunti, è la seguente. E se la vita di Edgar Allan Poe fosse stata una storia dell'orrore? È una vita dura quella di Edgar Allan Poe, tormentato sin da bambino dalla morte, quella vera, con falce e mantello, con cui si ritrova, forse troppo spesso, faccia a faccia. E come avere salva la vita quando si incontra l'oscura signora? Semplice, spaventandola a suon di storie di paura. In parte biografia, in parte raccolta delle storie di Poe. E in mezzo una zona grigia, tendente al nero. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla. Per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.